Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò la posizione delle tre monete blu della settimana 5 per la stagione 4 di Fortnite. La prima moneta si trova qui a scogliere scoscese in questa sorta di capanno di struttura vicino alla spiaggia. Le monete blu, come sempre e come sapete, si trovano all'interno di specifici oggetti che vanno distrutti e che emanano un bagliore blu quando vi trovate in loro prossimità. Non sono ancora le tre, quindi non vi sono le monete blu in questa prima fase del video. Quindi diciamo non ci sono le monete. Non c'è la moneta, quella che vi mostrerò adesso. Però diciamo le restanti sì perché sono le tre e quindi appena inizierò a catturare il video delle restanti saranno presenti. Quindi questa prima moneta si trova praticamente qua a scogliere scoscese. Scendete qua, rompete questo e dovete distruggere questa scatola. Passiamo alla seconda moneta. La seconda moneta blu si trova qui in questo edificio vicino sabbie sudate o meglio tra sievi da grifoglio e sabbie sudate. Vedete? Questa casetta vicino questo laghetto. La moneta blu, che a differenza della precedente questa volta potete vederla, è nel tetto dell'edificio. Dovete distruggere l'oggetto che vi mostro adesso qui dentro. Quindi ripeto, questa casetta che sta tra sabbie e siepi da grifoglio. Non potete sbagliarvi, c'è anche un laghetto vicino. Atterrate qua e distruggete il tetto. Altrimenti dovete entrare di sotto, fare la scala, quindi fate prima distruggere il tetto e distruggete a questo punto la valigia. Eccola qua. E questa è la seconda moneta blu. Andiamo alla terza e ultima moneta. L'ultima moneta si trova qui a corso commercio. Qui, vedete? Dovete praticamente atterrare dietro questo edificio. Adesso atterro e vi mostro la posizione e l'oggetto da distruggere per prendere l'ultima moneta blu della settimana. Atterrate qua dietro, entrate nell'edificio. Questo, scusate. E qui troverete l'ognomo da distruggere che vi darà l'ultima moneta blu della settimana.